Il 22 ottobre 2017 resterà una data storica, 2.378.020 sono andati a votare, è stato un plebiscito a favore dell'autonomia. Qualcuno allora diceva che era inutile andare a fare il referendum, oggi diciamo grazie ai Veneti che ci siete andati, perché se non avessimo avuto questa chiamata, questo fiume in piena del Veneto, oggi non saremmo qui a parlare di autonomia.